Musica E buongiorno, mi chiamo Flavio Di Luca, sono un assistente sociale e sono qui oggi per partecipare al Festival del Servizio Sociale. Il tema trattato è quello sulla diversità, in questo caso sull'omofobia. Io credo che è un tema attuale, è un tema in cui oggi se ne è discusso in maniera multidisciplinare, poiché ci sono stati diversi interventi, diversi professionisti, grazie al patrocinio dell'Ordine dei Servizi Sociali della Calabria. Il Presidente Danilo Ferrara è riuscito a convogliare la prassi di tanti e diversi ordini, gli avvocati, i giornalisti, anche perché rappresenta questo un punto di incontro su questo tema. Ritengo che ogni assistente sociale debba essere al passo con i tempi, ma soprattutto debba essere ferrato sui temi che purtroppo, ahimè, oggigiorno troviamo, leggiamo e si verificano in questa vita moderna. Io ritengo che il senso della prevenzione dell'aggiornamento professionale implichi anche questo, questa iniziativa a cui partecipare. E quindi sono fiero, sono contento di appartenere all'Ordine degli assistenti sociali e di partecipare a queste nobili iniziative. Buona giornata. Buona giornata.